L'arte dello scarabocchio e del disegno libero, un gesto liberatorio che nel novecento è entrato a pieno titolo nel panorama artistico figurativo, ma anche nei secoli passati i pittori, anche i più grandi, lo praticavano, in modo informale, con un'ironia e una libertà ben diverse da quelle delle rappresentazioni ufficiali. Ora una mostra a Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia a Roma, esplora fino al 22 maggio 2022 questo mondo straordinario e poco conosciuto. Molte volte, soprattutto per i pittori più antichi, letteralmente nascosto sul retro dei dipinti. È il caso del veneziano Giovanni Bellini, attivo tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, di cui nella mostra viene esposto un dittico sul legno rappresentante due santi su sfondo dorato. Francesca Alberti, curatrice della mostra, spiega. Se giriamo dietro alle tavole, quel che scopriamo è tutta una serie di disegni in palinsesto che non hanno davvero niente a che fare con il davanti e che esplorano un disegno estremamente libero. Un disegno che assume forme grottesche. Lo vediamo qui con questo santo, lo stesso che è dall'altra parte con la mitra, che sul retro diventa una figura grottesca su due gambe. La mostra entra così in un territorio affascinante e ricco di implicazioni psicologiche, indagando il rapporto fra ciò che è esposto davanti a tutti, la regola del momento storico, ad esempio il Rinascimento, e ciò che c'è dietro o ai margini. E dalla mente dell'artista emergono forme più libere, a volte incontrollate, a volte addirittura automatiche, ricche di ironia e di gioco. Questo è un disegno alla pietra rossa e poi sopra ce n'è uno alla pietra nera. E vediamo come questi fogli erano usati e riutilizzati e come il gesto poteva liberarsi e a volte dare delle sorprese e un rilascio della tensione. Era molto importante rilasciare la tensione che c'è durante il disegno per poi tornare a disegnare. Gessi artistici privi di tempo che scaturiscono dalla parte più profonda e assoluta della mente degli artisti, liberi dai condizionamenti dello stile e delle mode, e che avvicinano i grandi maestri del passato, da Leonardo a Pontormo a Michelangelo, agli artisti del Novecento contemporanei come Picasso, Basquiat e Sight Wombly.